Nella suite, a cappatoio, caffè, marmellata di arance, a mattina inoltrata nella suite dell'albergo, due sdraio al sole, quante volte! Le mi guardava sospesa, poi il grigio peso del ritorno in città. La processione delle mie amanti si è inoltrata perenne dalla mia giovinezza alla maturità avanzata, sempre così e quante volte! Solo adesso ho capito che non ho mai amato nessuna. A che mi è servita la processione? Commento. Ti è servita per imparare ad amare, se non in questa, in una vita successiva.